E' stata potenziata l'attività di cardiologia del presidio ospedaliero Lassaria di Lucera con la recente assunzione di 5 dirigenti medici cardiologi dal Policlinico Riuniti di Foggia che presteranno attività di servizio presso l'ospedale di Lucera e afferiranno funzionalmente alla loro struttura complessa di appartenenza diretta dal professor Natale Brunetti. I nuovi dirigenti medici cardiologi garantiranno ai degenti presso l'ospedale di Lucera prestazioni specialistiche cardiologiche equivalenti a quelle erogate dal Lab cardiologico del Policlinico Riuniti di Foggia e un'attività ambulatoriale per esterni in modo da soddisfare in maniera appropriata la richiesta di prestazioni cardiologiche dell'utenza di quel territorio. Continua il potenziamento multidisciplinare dell'ospedale Lassaria anche sfruttando con le innovative tecnologie della telemedicina il potenziale diagnostico e terapeutico dell'intero Policlinico Riuniti, dichiara il direttore generale il dottor Vitangelo Dattoli. E questo non riguarderà soltanto le attività di elezione ma interesserà in particolare le attività legate ai ricoveri urgenti che ben si collegheranno in seguito alla riapertura del pronto soccorso appena le condizioni di sicurezza lo renderanno possibile.